Restiamo a Dariano dove il comune spende cifre impressionanti per il risarcimento danni ad automobilisti lungo le strade. Le richieste sono ormai all'ordine del giorno come vedrete in questo servizio, le più frequenti negli ultimi giorni lungo il tratto dissestato che dal bivio di Monte Calvo porta alla zona Martiri Vecchio. Vediamo. Questa che vedete è una delle tante buche, tra le più profonde. Ad ognuno è toccata la sfortuna di finirci dentro, ma c'è anche di peggio. Qui siamo lungo la strada che porta alla zona Martiri Vecchio in prossimità del bivio di Accoli. Fernando Filomena è uno dei tanti automobilisti che ha subito seri danni. Sono una grande vittima, ci sono andato due volte. Qui serve solamente una carriola di roba, forse meno, una metà. Però sono incuranti. Io ho avvisato l'assessore Prato, il quale subito, tempestivamente, ha avvisato l'ufficio tecnico. Questo risale a dieci giorni fa circa. Poi ieri mi sono regato presso l'ufficio del comando dei vigili urbani e il piandone di turno Spinelli mi riferiva che anche lui c'era andato dentro in questa buca e praticamente l'ufficio tecnico già era stato attivato, informato e a mia presenza ha riferito tramite fatti di nuovo di intervenire al più plegito. Ehi, 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 ma guarda l'amministrazione che fai. Lo sai, eh? Visto quando si prende nelle voce, si mette nella sacca e se ne va. Ho fatto la cosa, mi ha fermato il pulmelo circolare, eh, vedi che hanno fatto, il parcheggio delle macchine. Questo è il comune, questo ci porta. Questa cosa si chiama mainire? Questa, questa buca da quanto tempo sta? Sì, come minimo solo è un mese. Ah, è un mese. Difficoltà è enorme. Difficoltà è enorme. Ma che, in me che non parlare, avanti le vigili, guarda, non faccio. Andrusini che ci sono chiuso ancora, manca una volta perché effettivamente, e qui ci crea bello, qui ci crea brutto, qui se ne ne parliamo proprio. No, è una cosa tremenda. Quando viene una votazione, ti viene una trova a casa, è una precarietà di economica soldi, che cosa. Ho combattuto, avete 10 anni, per avere una fermata, una circolare, per avere una circolare, mettere nella pensione, la non le vede. Quando vengono a circolare, hanno in mezzo la via nuova, il comune, che è la cosa. Le vanno alla monnezza, che le abbiamo portate alla base, e abbiamo messo la fermata delle macchine. Abbiamo messo la sosta delle macchine. Grazie. Questi sono i nostri politici di Ariane e il Quino, i nostri politici.